La Guardia di Finanza di Napoli ha tratto in arresto un 27enne di Marano di Napoli e sequestrato all'interno del Parco Metropolitano dei Colli e dei Camaldoli, 80 piante di cannabis indica dell'altezza media di oltre 3 metri per un peso complessivo di circa 400 kg. L'operazione è stata condotta dalla compagnia di Giuliano in Campania ed ha interessato una zona interdetta al pubblico. Il parco era di difficile accesso ma mediante un veicolo aereo della Guardia di Finanza è stata scoperta la folta vegetazione. Il giovane arrestato nell'allestire la piantagione di cannabal nascosta dai rovi aveva persino montato una tenta da campo per trascorrere la notte nelle vicinanze e per raccogliere la marijuana entro le prime ore del mattino. Sequestrati anche gli attrezzi utilizzati per la potatura e l'irrigazione mentre le piante sono state successivamente estirpate e incenerite sul posto. Un altro importante risultato nella lotta alla droga che rientra nel piano di prevenzione e repressione del traffico di stupefacenti del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell'ambito del quale proprio i reparti del gruppo di Giuliano in Campania si sono particolarmente distinti, sequestrando solo negli ultimi due mesi ben sei piantagioni medi-mairo.